verso il mercato di volley, perché oggi, il giorno di un grande ritorno, dieci anni dopo, perché l'anno prossimo con la maglia della Calzedonia giocherà il capitano della Nazionale. Allora le prime parole sentiamole di Emanuele Birarelli da neogiocatore della Blue Volley. Sono molto contento di essere venuto qui a Verona, nel momento in cui ho capito che non c'era creato un accordo per poter rimanere a Perugia, è stata la mia prima scelta, quindi veramente molto contento. Credo che sia la situazione giusta per me in questo momento, una società ambiziosa che da tanti anni sta facendo bene, è un progetto nuovo, se vogliamo, perché la squadra è quasi totalmente rinnovata e io mi sento di poter dare molto a questa causa e sono veramente grato alla società di avermi chiamato per provare a fare un bel cammino insieme. Penso che la squadra sia molto valida, secondo me, va bene, sappiamo tutti che ci sono delle società, delle squadre che magari hanno anche qualche possibilità in più, diverse possibilità in più e sembrano un po' inarrivabili, però direi che questa squadra ha le proprie potenzialità e lavorando bene quotidianamente direi che non ci si debba porre limiti perché si può arrivare dappertutto.